Nell'episodio precedente Dove scoprire se Nathan Prescott mi ha aiutato o mi ha fatto del male dopo la festa Dovrei andare dalla polizia? Oh, attenzione, scelta cruciale, importante Cerca delle prove e vai alla polizia Vabbè ragazzi, se non rispondo Kate non ce la prenderà Dico che avevo il telefono in silenzioso Però non voglio perdere le amicissie che ho Cioè, le amicizie Non voglio fare tutto per lei Ok, sì, andiamo a dominare il mondo, la madonna No, veramente, spero che Kate non si arrabbi perché Questo che cazzo è? Che cazzo è questo? Semplicemente non... Cioè, il fatto è questo Se non rispondo alla chiamata non penso che succeda qualcosa Avevo il telefono in silenzioso, non l'ho sentito Però non voglio rinunciare sempre ad altro per Chloe Ecco, prima o poi Anche Chloe avrà le sue delusioni da parte mia Penso Ah però, benvenuti ad American Rust, il mio refugio Togresto è spartano Ci si addice Sì, ma divertirci Cosa dobbiamo fare? Oh santo Dio Il coglionello di E3 Mi sembra un po' un approfittatrice, vi dico la verità Cinque bottiglie? Che palle E te stai lì ferma, suppongo, vero? Mortacci tua Un altro messaggio da Kate Grazie per l'ottimo consiglio di andare dalla polizia E dirgli tutto di Nathan Apprezzo molto il tuo sostegno Mi aiuti a mantenere la fede Baci Per favore, non nominarmi troppo se puoi Sono già nei web per conto mia E per conto mio E scusa se ti ho scocciata stamattina Immagino tu fossi troppo impegnata per rispondere Stavo per avere una crisi e avevo bisogno di qualcuno Inizia la lezione, devo andare Mi dispiace Kate Mi dispiace Come te lo dovrò dire Allora, una bottigliera lì Però io non ci posso arrivare Perfetto, eccola qua Bottiglie Tieni, le tue bottiglie Spareremo tutte queste bottiglie senza sprecare neanche un proiettile Devo aiutarti a mirare Guidami Max Eh già Ok A destra Et voilà Presa Eh proprio una gran figata Ora la seconda bottiglia Ok Su La Perfetto Anche questa è presa Ho voglia di esagerare Trovami un altro bersaglio Qualcosa di fantasioso Cosa vuol dire Spara al cerchione Vai vai Oh Ti è piaciuta questa Stracazzo Sì Va bene Paraurti Paraurti Vediamo un po' Non ci posso Non ci va Raga non vai indietro Raga non vai indietro Ok adesso sì Oddio Oddio raga Non ci voglio credere Ma che cazzo Ma te sei matta Ma spara alla ruota Porca puttana Oddio Sparare la ruota Di morte Oh raga Sono scioccato Veramente Sciocca Oh Indietro 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 Ok perfetto A posto Fine dei giochi Perché mi sto rompendo il cazzo Ma che tocca a me sparare Sto morendo Vedi che sono stanchissima Ancora sangue Questo potere Mi ucciderà È svenuta Di nuovo Ci siamo raga No raga mi trema tutto Clamoroso Veramente Clamoroso È una roba Troppo divertente questa Ok basta dai Parliamo con Chloe Chiudiamo questa storia Buongiorno Si sembra che sei pronta Per chiudere e caricare Boh Non so Non so Siete freddo Di essere in problemi Oh Boohoo Max è freddo Mi sa Ma la smetti di rompermi I coglioni Mi stai Inizando ad andare Un po' sul cazzo E chi è quello Anche Ehi Stelman e Louise O è Bonnie E Clyde E questo Oh 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 Non siamo nulla cosa stessa. Abbiamo bisogno. In realtà, ti ho bisogno di così bene, mi ha dato un po' di freddo, non? Hai? Non si dicono tutto questo? Anche quando si è morto e si trattano difficili? Che stai guardando lì, figli? Mi vediamo. O dove hai dato il braccio? Un amico. E non è il vostro negozio. Tu sei il mio negozio adesso. E' il braccio di Rachel. Un amico. No, non era. Hai distrutto questa p***a! Dalla ora, uffio! Oh, 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 oh! Mi chiedevo. Vuoi che mi chiedevo? Una coltellata. E' questo affetto. Scusate. Scusate. No, raga, non sparerò. Ma non sparare, ma stiamo scherzando. Ma non ci penso neanche. Scusate. Ma di cosa stiamo parlando, veramente? Abbiamo in Costello. Buona pausa. Io considero questo interesse sul tuo luogo. Grazie. Ciao, ragazzi. Io non gli avrei sparato mai, ma proprio mai. Ok, ovvio che... Oh, non mi rompere i maroni. Te la devi vedere con lui adesso. Mica io. Ma no, ma... Non ti devi scusare. Scusate. 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 Ci sono altre pistole là fuori. Andiamoci. Certo. Vieni qui a sparare. La prossima volta portati un fucile a pompa. Vediamo se non se ne accorge nessuno. Oh, ragazzo. Frank took Chloe's gun because of me. I can't believe you basically gave him my gun. Here you go, Frank. Ancora. I'm so mad at me. Especially for stupid shit. I'm not mad. It adds up in my mind as people letting me down. E' certo. Ti ho deluso per questo. Vabbè. Ora ti ho per me per proteggerti. E' proprio felice che tu eri qui. Me anche. Credo. Chloe... Perchè stai guardando una... scusate... È vero. Proviamo un paese e parlare. Sentiamo come un mondo diverso, eh? E' spero di restare sempre. Possiamo costruire un altro porto pirata? Perchè stai guardando e... Stai guardando il mondo? Perchè stai guardando un nuovo segreto. Almeno Frank non lo trova. Sei ok, Max? E' vero. E' vero. E' vero, Chloe. E' vero. Ma Frank non è così forte che lui. Solo lo importa è il suo cash, il stascio e il mangi. Chloe... Hai capito? Però tu gliela devi dare. Quindi è un casino. E' vero. E' vero. Max, lo so. È il nuovo normale per me. E' vero. 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 Frank Bowers è solo un negozio. E' un negozio. E' un negozio. E' il mio negozio. E' un 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 negozio. Che cazzo? Non vuoi dire che... Ah, no. Non abbiamo sexo. E' vero. Non aveva mai provato. Ho fatto il errore di prendere il money, per cui Rachel e io possiamo fucire. E' vero? No. No. Voglio sapere come Frank ha avuto il braccio di Rachel. Che credi? Credo che abbiamo bisogno di essere attenti. E' un attimo su questo ragazzo. Sembra che lui ci si guarda. Ok? E' vero. E' un attimo parlare con te di questo malattimo. Non abbiamo sbagliato così tanto da quando eravamo due. E' come che non è passato tempo. E' spero che Rachel fosse qui per incontrivi. E' un attimo. E' un attimo. E' un attimo. Non è così diverso. Ha... 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 Un grande ombre per le immagini e per l'articolo. E' un attimo. E' una smartassi come te. E' tutti sarebbero le mie amiche per sempre. E' vero che deve essere così come sei. Non ho dubbio che ci troverò in breve. La Rai-Lawr-Track è sempre qui per la rai-Lawr-Track. E' un attimo. E' un attimo. Ma è proprio il caso di stare sulle rotaie, vero? Il sonno della ruota di treno a mattina. Guarda il poeta di treno qui. E' un buon fotografo. E' sei. E' un attimo. E' un attimo. Ok, cosa... cosa sto fotografando? Cosa succede? Cosa succede? E' un'altra visione. Mio Dio, mi spaventa questo tornado, raga. Mi spaventa troppo. Guarda lì quant'è di... Incombente. Gigantesco. Max, aiuto. Sono bloccato. Eccola. Porca la gran puttana. Siamo fottuti. Siamo fottuti. Arriva il treno. Cos'è quel rumore? Il treno. Ma ecco, brava. Allora, prendi sto piede di porco. Ed entriamo nella casetta. Ci sarà qualcosa che mi può aiutare per sbloccare quella santa. Piede di porco. Rompiamo la porta. Apri sto cassetto qui. Sì. Le pinze. Devo prendere le pinze. Ah, per i cavi? Oddio. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Da dove cazzo devo scendere? Ok, qui, qua, qua, qua. Qui, qua, qua. Ok. E mo? Pinze. Ah, scatola dei fusibili. Vedi, vedi, vedi. E mo? Che cazzo rompo? Quello rosso. Pinze. Cavo rosso. Completamente a casa. Di solito quello rosso, dai. Ecco il cavo giusto. Martacci, non ci posso credere che ho avuto sto culo. Sì, l'ho fatto. Incredibile, raga. Incredibile. 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 Vi ho salvato il buccio di culo, raga. Non ci credo. Non ci credo. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Boh, non so, di solito è quello rosso, dai. Quello che bisogna tagliare. O è quello che non bisogna tagliare. Non lo so. Non lo ricordo. E gli ho salvato in nuova vita. Ha già la seconda volta? In due giorni? Mi sa che adesso sei tu in debito con me. I miei poteri potrebbero non durare. Ah, per sempre, eh. Io, ragazzi, non sono convinto proprio al cento per cento. Lo volete sapere? Ci sono dei suoi comportamenti che non mi convincono per niente. Grazie per l'arrivo, Chloe. Sì, in tempo per la mia lezione di arte. Grazie per venire con me. Scusa di essere così sbagliata. E' proprio noiosa. Spiegare cosa? Spiegare cosa? Sì. Sì che la conosco. Sì che la conosco. Sì. Cosa io? Sono solo una ragazza in una piccola città. Un esempio perfetto di attrattori strani? Non ci insegnano nulla a Blackwell? Abbiamo un Tornado, Rewind Power e Freak Snow. Ciao Armageddon! Allora, partiamo con il tuo potere, Rockstar! Come ha detto, Professor Price. Un superherò necessita un sbagliato. Come potrebbe essere una settimana e ancora uno dei migliori della mia vita? Perché siamo tornati in azione. Cioè loro ovviamente ci credono molto nell'amicizia. Ma io che sono esterno alla loro storia... Mi sento un attimo in difficoltà. A prendere determinate decisioni. Nel prossimo episodio... No raga! Ma che cazzo!